Streghe, vampiri e fantasmi sono pronti a scatenarsi nella notte anche a Piacenza. Pensavo di andare a una festa dove bisogna travestire insomma a tema e boh, io sono cappuccetto rosso, sangue un po' dark. Io a mercoledì della famiglia Adams. Io da principessa dark. Mi divertite in questa occasione? Sì, molto. Sì, sì, è divertente. Zucca e dolcetti hanno fatto infatti la loro comparsa già da qualche giorno. Sono numerose le feste a tema che animeranno la notte di Halloween in città e provincia. Secondo i negozianti più gettonati sono i denti da vampiro e a travestirsi non sono solo i giovanissimi. L'articolo per la maggiore sono sempre i denti di Dracula e poi molto le lenti colorate, che sono bianche o verdi, blu. L'importante è che siano spaventose. L'età media delle persone che si rivolgono a voi per travestire? Ah, da un'età di almeno 4 anni fino anche a 40-50 anni. Boh, penso demone qualcosa, non lo so qualcosa di... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.